Questo programma è stato presentato da Crea Tu, Orogel e Garofoli, Porte e Coordinati d'Arredo Novi, il grande cioccolato italiano Tadà! T'ho fatto le saracene Grande, nonno! Farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato Buonissimissime, signor Balocco Saracene Balocco, fate i buoni Salve, ma è vero che lo tomate tutto? Certo, signor Biagio Ma anche la mia macchina è praticamente nuova? Senz'altro E se porti il mio motorino sgassato? Certamente Un sidecar, una motofarce, una mia di trebbia Ovvio Eccezionale Ma non è che posso rottamare anche mia suocere? Beh, ne possiamo parlare Parliamo Evo Rottamatutto Evo 3 ha soli 15.900 euro Evo 4 ha soli 16.900 euro Evo 5 ha soli 17.900 euro Corri in concessionaria Buongiorno Salazione Benessi Fresca crema al latte e miele abbracciati da soffice pan di spagna Kinder Fett al latte Semplice come un abbraccio Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Tachiflu TASC A portata di TASC Pronto da prendere Pronto ad agire Combatte i sintomi e decongestione le vienesali Tachiflu TASC E la giornata continua E quando puoi concederti una calda cura Tachiflu DEC A volte per cambiare il modo di vedere le cose basta davvero poco Pavesini Il lato leggero della vita Questo risparmio 60% L'inizio già mi piace guarda Questo risparmio 60% Io ho trovato il mio preferito Risparmio di 60% sulla collezione 300 Già so quello che sta per dire E consegna garantita entro Natale Che termina domenica Poltrone sofà Solo divani di qualità Ci hanno fatto divertire Ci hanno fatto emozionare Ci hanno fatto commuovere Torna il talento Tornano i bambini di The Voice Kids Antonella Clerici presenta The Voice Kids Prossimamente Su Rai 1 In prima visione Cuori Seconda stagione Domenica 21 e 25 Rai 1 A noi piace Robin Piace Watson Ci piace Barney E Jigen Ci piacciono perché sono sempre accanto all'eroe Qualunque cosa succeda Proprio come noi facciamo con te Che superiamo noi stessi per esserti vicini Quando hai bisogno di energia Di protezione O anche solo di comunicare Da oggi Win3 È connessioni Energia Assicurazioni Nenno La pasta Non la mangia Facciamo una sfida Mangia la pasta È buona È la pasta di camerino E ti torna il sorriso Che sto Vai È impossibile Resistere alla pasta di camerino Ruvida e porosa Cattura tutto il condimento Ed è capace di esaltarne il sapore Rendendo ogni piatto Un capolavoro Una garanzia di eccellenza Grazie ad una lavorazione fedele Alle antiche ricette Proprio come se fosse fatta in casa È buona come quella Della nonna E grazie al QR code presente su ogni confezione Puoi scoprire l'origine di tutti gli ingredienti 100% italiani E conoscere tutta la sua filiera Per una massima trasparenza e bontà Che bontà Oltre alla pasta all'uovo Ci sono tanti altri prodotti di altissima qualità Per gustare ogni giorno i sapori indimenticabili della nostra tradizione Evviva! Ho perso la sfida! E non sei triste? No, perché la pasta di camerino mi piace troppo E me la sono gustata tutta La pasta di camerino Sapori da ricordare Maestri 300 negozi Complimenti Sabrina, capita fagiolo Abbiamo appena inaugurato l'ultimo Con il risparmio del 60% Sulla collezione 300 Questo? Risparmio 60% L'inizio già mi piace, guarda Questo risparmio del 60% Io ho trovato il mio preferito E questo risparmio del 60% Anche lui ha il suo fascino Su questo invece risparmio del 60% Vi faccio vedere la mia scena preferita E altri ce ne sono E in più consegna garantita entro Natale Che termina domenica però Oltro ne so fa Trecento ne fa Nuova Rivelia dei Longhi Passa una nuova coffee experience Acquista Rivelia In omaggio il set del gusto Perfetto Io sono Enea Pietro Forse è un posto in cui possiamo starcene da soli Ma non è che adesso che vi siete innamorato E tu non vieni più Raccontare a volte è solo un modo per rivivere delle emozioni T'ho voluto bene a te Ho voluto bene a tutti i guardi Quanto dovrei stare così? Black Friday di Euronics Che svolta! Samsung Galaxy A54 5G A 349 euro Che svolta il Black Friday di Euronics L'Italia è il paese più novi che c'è Perché è il cioccolato che gli italiani amano Come l'eleganza dell'extrafondente E anche chi non è italiano Impara ad amarlo Svizzo? No! Novi! Novi Il grande cioccolato italiano Una strepitosa serata di ballo Pubblico in piedi Ma non so Tu vuoi vincere Io vinco Qui viene la passerela Ballando con le stelle Domani alle 20.35 Su Rai 1 Sta per tornare Che? Un attimo! E tutti devono saperlo Posso andare? Vado? Vai Invio Su Rai 1 Due episodi Tra i più recenti di Montalbano Ho visto che roba? La conosceva? Io no Ma Livia la conosceva Che ci faceva una picciotta qua? Due casi da non perdere Sono Antonio Nicoletti Della scientifica Quelli più spiazzanti Si era resa conto Che sono rimasto Molto turbato Si parte con Salvo amato Livia Mia Apri E chiudi E il metodo catalanotti Livia Ciao Che succede? Due grandi appuntamenti Con Montalbano Mercoledì 8 E mercoledì 15 novembre Su Rai 1 Oggi non è il vostro anniversario Intanto si è dimenticato di chiamarmi Pensavi davvero che avessi dimenticato il vostro anniversario? Come ti viene in mente di andare sul motorino? Sei impazzita? Diamoci una calmata Se fosse tua figlia la penseresti diversamente Mi dispiace Lea Gli uomini sono fatti così Soltanto due parole Bentornata Lea Quanto si ferma Arturo? A te stasera Per qualsiasi cosa io ci sono In prima visione Lea I nostri figli Seconda stagione Prossimamente Rai 1 58 57 56 56 56 58 57 58 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 59 59 59 62 59 60 62 63 63 62 67 63 64 60 64 63 E l'amore? Un attimo unico da togliere il fiato. Le emozioni sono uniche, come te, come Baci. Scopri il nuovo gusto intenso di Baci Caffè. Baci, vivi le tue emozioni. Raccontare a volte è solo un modo perdere, rivivere delle emozioni. Maestri, 300 negozi, complimenti. Sabrina, capita fagiolo, abbiamo appena inaugurato l'ultimo. Con il risparmio del 60% sulla collezione 300. Questo? Risparmio 60%. All'inizio già mi piace, guarda. Questo? Risparmio 60%. Io ho trovato il mio preferito. E questo? Risparmio del 60%. Anche lui ha il suo fascino. Su questo, invece, risparmio del 60%. Vi faccio vedere la mia scena preferita. E altri ce ne sono. In più, consegna garantita entro Natale. E termina domenica, però. Oltrone sofà, 300 ne fa. In un supermercato italiano, una famiglia è minacciata da dottori inflazione. Dopo questo basta, eh, che il carello è pieno. Qualcuno deve difendere la nostra spesa. Wow, è spesa difesa. Spesa difesa. Che con i prodotti Selex dà valore al tuo carrello. Allora è proprio vero. Spesa difesa, grazie ai prodotti Selex, protegge il tuo carrello per una spesa conveniente e di qualità. Fino al 30 novembre, pasta all'uovo Selex, vari formati, ha soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati e anche online. Selex, non racconta storie. Quando il dolore cervicale ti tormenta, nuovo Volt Advance Go, capsule molli anche a stomaco vuoto. Agisci rapidamente contro il dolore cervicale, con un'azione antinfiammatoria mirata. Non è solo movimento, è vivere insieme in momenti unici. Volt Advance Go. A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina. Ciao, io sono Dante. Nina. Quanta roba, eh? Guarda, ci ha sfrattati, mano. Cioè, avevo qualche retrato e... Dile di venire a vivere qui. Perché di venire a stare qui? A me sembrava che la mamma di Manuel ti piacesse parecchio. Sì, sì, mi piace. Io sono tornato in Italia da poco. Ti va se ci vediamo? Sì, certo. Scusa, quella non è... Eh sì, è mia madre. Torna un professore. La seconda stagione. Prossimamente su Rai 1. A tutte le volanti in zona c'è un gatto che miagola in un bagagliaio. Ripeto... C'è un gatto. Il dramma di due ragazze. Mi chiamo Teresa. Vorrei essere il tuo avvocato. Sono loro. Alla villa le ragazze ci sono andate di loro spontanea volontà. La rivincita di tutte le donne. Quello che possiamo fare noi è fargli avere il massimo della condanna. Noi grazie a te la cambiamo questa legge. Perché la violenza sessuale non può più essere soltanto una offesa alla morale. Premiato ai nastri d'argento. Circeo. Dal 14 novembre alle 21.30. Rai 1. Ehi! Boomerissima è tornata! Questa sfida tra i boomer e i millennial. Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima. Martedì 21 e 20. Rai 2.